buongiorno anche oggi facciamo i messaggi degli angeli della divinazione allora questa è la carta numero 23 angelo della creatività dentro di te la creatività scorre liberamente hai ricevuto questa carta perché il tuo angelo vuole che tu ti accorga della sua presenza ti sei forse appellato al mondo dello spirito per ricevere la guida ispirazione e incoraggiamento nella tua attività creativa se è così allora il tuo angelo della creatività è qui per assisterti a volte quando lavori a un'idea creativa la tua mente può bloccarsi a causa di dubbi paure e mancanza di fiducia riguardo ai tuoi doni il tuo angelo vuole che tu sappia che possiedi tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare l'attività creativa alla quale stai lavorando se nutri dei dubbi chiedi al tuo angelo di darti l'ispirazione giusta per i tuoi progetti se stai lavorando a un'opera d'arte visualizza il tuo angelo che guida la tua mano mentre dipingi o disegni e ti ispira a completare l'opera se stai scrivendo un libro o una poesia un brano musicale o persino una lettera alla persona amata visualizza l'angelo accanto a te che ti aiuta a trovare le parole giuste l'affermazione di questa carta è consento al mio angelo di assistermi lasciando che la creatività scorra e trionfi in tutte le mie attività creative questo è il messaggio di oggi vi auguro una buona giornata grazie 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 grazie